Ancora polemiche dopo la concessione della semilibertà Marino Occhipinti, a Etg il dolore del padre di Carlo Beccari, ucciso 24 anni fa dalla banda della Uno Bianca. Nel procuratore Giovannini dice i giudici applicano le leggi, la politica le può cambiare. Ferma l'addizionale IRPEF ma ritocco verso l'alto delle aliquote IMU per la prima e seconda casa e la prima bozza di bilancio varata dalla Giunta. L'obiettivo è garantire i servizi nonostante 70 milioni di euro di tagli, sindacati, tutelare i redditi più bassi. Il giorno dopo la protesta dei tassisti in Piazza Maggiore il Comune approva la decisione di liberalizzare le licenze per l'assessore Nadia Monti, consentirebbe abbattimento dei prezzi e un aiuto al turismo, domani intanto a Bologna incontro nazionale dei tassisti. Visita privata del Cardinale Caffarra nel pomeriggio al Gozzadini per incontrare le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati, la sofferenza dei bambini dice l'arcivescovo di Bologna e quella che più ricorda la sofferenza di Cristo. Calano le vittime di incidenti ma dalle strade della Regione continua ad arrivare un bollettino di guerra, 299 morti nel 2011, quasi 100 in meno rispetto all'anno precedente, tra le vittime soprattutto motociclisti e giovani. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG Bologna, in apertura questa sera ancora le polemiche, i commenti che sono seguiti alla notizia di ieri della concessione della semilibertà Marino Chipinti, un componente della banda della Uno Bianca, lo avevamo già anticipato nel corso del Tg di ieri sera proponendo il commento della Presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime, Rosanna Zecchi, che si è detto ovviamente molto amareggiata. Oggi siamo andati invece a sentire lo stato d'animo di Luigi Beccari, il papà di Carlo, la guardia giurata uccisa da Marino Chipinti il 19 febbraio del 1988 durante un assalto a un furgone portavalori alla Coppa di Casarecchio di Rene. Andata per noi Simona Iannessa. Dopo la notizia della semilibertà a Marino Chipinti, accusato dell'omicidio di Carlo Beccari, siamo venuti qui a casa del papà di Carlo, che ci ha voluto raccontare che cosa sente dopo questa notizia, come ha preso questa notizia che forse un po' si aspettava, forse era mareggiati, molto mareggiati siamo, perché se c'è una legge loro devono star dentro e come ripeto, che lo ripeterò sempre, mi devono dare la chiave a me, a me, a Beccari e una a testa agli altri familiari che hanno avuto la stessa disgrazia che ho avuto io, ma non che li mettono fuori, non che ci diano il premio. Che cosa farebbe se ce l'avesse qui davanti? Sì, farei qualche cosa, le montagne stanno ferme e la gente girano, chi lo sa se un giorno ci troviamo in un bar, non so, magari, occhi pinti, se sta dentro c'è la salute, ma se viene fuori ne ha ben poca, a me mi hanno rovinato. A distanza di tanti anni il perdono non è mai arrivato e mi sembra di capire che non arriverà. Non arriva per niente, no signore, non può, non glielo diamo il perdono, io perdono, perdono occhi pinti, se viene in casa mia a chiederlo a lui in casa mia, si chiude la porta, poi si vedrà chi esce dopo, quello sì, ma è un perdono che mi ha notato, un fiore della nostra vita, guardi, guardi lì, una famiglia distrutta, disfatta, perché si ricorda che non si sa mai come reagisce un familiare verso occhi pinti o i sciavi. Suo figlio, l'ultima volta che l'ha sentito, che cosa gli ha detto, che ricorda? Mio figlio quando, io quando arrivavo a casa, alle 10 con il camion, mi telefonavo, papà sono qui a casa, papà sono arrivato, bene, bene, e arrivo a casa, non so se ero Trieste o Milano, non lo so, ha telefonato Carlo, si dice con mia moglie, dice no. Ci applicano le leggi esistenti, il Parlamento e quindi la politica le possono modificare tutti e per prime le vittime hanno il diritto di dissentire, lo ha detto oggi il procuratore aggiunto di Bologna, Walter Giovannini, rispondendo appunto ai giornalisti sulla semi libertà concessa a occhi pinti, uno degli ex poliziotti della banda della Uno Bianca e alle conseguenti polemiche, Giovannini è il magistrato della Procura di Bologna che condusse le indagini e il processo sulla banda della Uno Bianca. Ultima pagina parliamo di IMU, di aumenti che sono in arrivo, il Comune di Bologna va dunque verso l'aumento della liquuta IMU sulle prime e seconde case, quanto emerso dalla riunione di giunta che si è svolta oggi, tra una settimana ci sarà la proposta finale, ma la situazione è drammatica, dice il sindaco Virginio Merola, sentiamo. L'addizionale IRPEF ferma con un aumento delle aliquote base dell'IMU su prima e seconda casa, è il primo schema di bilancio su cui la giunta di Bologna sta lavorando, in una riunione fiume dalle 9 alle 15 c'è stato un confronto iniziale che continuerà anche sabato e martedì quando dovrebbe uscire la proposta finale, l'obiettivo, ha ribadito il sindaco Virginio Merola, rimane quello di garantire i servizi. Ci sarà un aumento pesante, inedito e mai visto di pressione fiscale, che andrà direttamente allo Stato, ha spiegato il primo cittadino, secondo il quale è bene comunicare ai bolognesi che se tra ICI e IRPEF si raccoglievano 100 milioni, con l'IMU saranno 210 e la differenza la prendiamo e la passiamo direttamente allo Stato. Insomma, per Merola stiamo parlando di una situazione drammatica, noi siamo esattori dello Stato, dunque necessariamente i 70 milioni in meno andranno trovati da qualche altra parte. Il rischio di ritoccare le aliquote base IMU è molto concreto, lasciare tutto fermo è impossibile, significherebbe tagliare la carne viva sui servizi, ha proseguito Merola, ribadendo invece che l'orientamento è quello di non aumentare l'addizionale IRPEF. La speranza comunque assicurante rimane quella di non alzare l'IMU, per questo ci siamo presi tre giorni di studio, ma allo stesso tempo Merola ha ammesso che dobbiamo capire come modulare la nuova tassa con un minimo di equità. A partire dalla possibile differenza di tassazione tra seconde case e case sfitte, un aspetto che non è ancora chiaro all'amministrazione. Se di certo non sarà reintrodotta la tassa sulle materne, lo è escluso lo stesso sindaco, il Comune sta invece addirittura valutando il blocco totale del turnover. Difficile infatti recuperare qualcosa dai cosiddetti sprechi. Ormai c'è poco da eliminare, siamo alla soglia critica ed è l'ultima manovra di queste cifre che possiamo sopportare, ha concluso il sindaco. Continua a far discutere la protesta di ieri dei tassisti in Piazza Maggiore, l'assessore al commercio Nadia Monti e la vice sindaco Silvia Giannini dicono sì alla decisione del governo di liberalizzare le licenze. Sentiamo. All'indomani della protesta dei tassisti in Piazza Maggiore, anche a Palazzo d'Accursio non mancano le reazioni. L'assessore al commercio del Comune di Bologna, Nadia Monti, dà ragione al governo che vuole liberalizzare le licenze. Se ci sono più taxi per strada, il servizio costa meno. Bologna è una località turistica e se diminuiranno i prezzi, anche i turisti saranno incentivati a utilizzare di più i taxi. La domanda comunque c'è. Inoltre, significherebbe più sicurezza a Parigi, ad esempio, spiega l'assessore, è stato incentivato l'utilizzo dei taxi notturni, in particolare per le donne che si sentono più sicure. La Monti propone inoltre al governo di recepire la proposta dell'antitrust, assegnare agli attuali tassisti una seconda licenza da rivendere o utilizzare per recuperare la perdita di valore della licenza originaria. E comunque credo, dice ancora l'assessore al commercio, che andrebbe stabilito un tetto massimo, dando la possibilità di condividere una licenza. Si creerebbero più posti di lavoro. Ma la posizione sulla liberalizzazione verrà condivisa con regione e provincia, conclude Nadia Monti. Anche la vice sindaco Silvia Giannini è sulla stessa lunghezza d'onda. Da economista dico che le liberalizzazioni sono un beneficio per la concorrenza economica, perché riducono i costi e vanno a vantaggio dei cittadini. Ma le associazioni dei tassisti non ci stanno e ribadiscono. Non è vero che siamo una casta, non è vero che i taxi in Italia costano di più, non è vero che il mercato è liberalizzato ovunque, non è vero che i prezzi si abbasserebbero, dice Riccardo Carboni. Numero uno dico Tabo. Intanto la protesta continua. I tassisti annunciano volantini e domani alle 10, nella sede bolognese di Lega Coppa, si riuniranno le associazioni dei tassisti per presentare una proposta da consegnare al governo. Niente più insegne in lingua straniera per i negozi di Bologna, stabilirlo è una delibera comunale. Allora andiamo a vedere le novità nel servizio di Massimo Ricci. Manca solo il voto del Consiglio Comunale, poi la delibera preparata dall'assessore al commercio Nadia Monti sarà legge. Stop alle insegne dei negozi scritte esclusivamente in lingua straniera. D'ora in poi dovrà esserci anche la traduzione in italiano e di dimensioni leggibili. Per chi non si metterà in regola entro la fine del 2012 è prevista una multa da 412 euro. Ci saranno ovviamente eccezioni, spiegano i dirigenti comunali. Per esempio le marche non saranno tradotte, così come i termini entrati nell'uso comune, come kebab. Nessun leghismo di sinistra da parte del Comune di Bologna, ma solo buonsenso, spiega l'assessore Monti. Evidentemente il riferimento è al plauso della consigliera leghista Lucia Borgonzoni, che nello scorso novembre aveva presentato un'ordinanza molto simile al testo dell'assessore. Onde evitare strumentalizzazioni da parte di alcuno, ha scritto oggi Nadia Monti su Facebook, tendo a precisare che l'idea di rendere obbligatoria la traduzione delle insegne in italiano non si rifà a nessun tipo di leghismo di sinistra. Ho voluto solo evitare ghetti e favorire l'integrazione. Ieri poi il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ulteriore documento, un ordine del giorno presentato dalla consigliera Mirca Cocconcelli, teso ad incentivare il consumo di prodotti tipici locali, in particolare ortofrutta e latticini, e per promuovere accordi di filiera fra mense scolastiche, ospedali e le associazioni cooperative di coltivatori e agricoltori locali, anche attraverso una specifica definizione dei capitolati di gara. Vasco Errani conquista la prima posizione in classifica tra i presidenti di regione più apprezzati. Insieme a lui a pari merito c'è il governatore del Veneto Luca Zaia e subito dopo quello della Toscana Enrico Rossi. Sono i risultati dell'indagine condotta dalla Data Monitor, istituto di ricerca del gruppo BSE, la quarta edizione 2011 dell'indagine trimestrale sull'apprezzamento dei governatori di regione, vede appaiati in testa appunto con il 60% Zaia e Errani che fa un balzo in avanti dell'1,8%. Tra i primi dieci governatori presenti in classifica tre sono di centro-sinistra, sette di centro-destra. Cambiamo argomento, parliamo adesso della frana di Ripoli sulla Pennino Bolognesi, lavori per la galleria della variante di Valico hanno riattivato una frana quesciente in corrispondenza della frazione di Ripoli Santa Maria Maddalena, la situazione è monitorata e tra i politici che si stanno occupando di questa vicenda c'è il nostro ospite di questa sera, capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle Andrea De Franceschi. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Innanzitutto ci sono delle novità, delle novità importanti proprio di oggi su questa frana, quali sono esattamente? Sì, la regione, il servizio geologico della regione Emilia Romagna ha classificato tutta questa zona, metà praticamente dell'abitato di Santa Maria Maddalena, come zona rossa, quindi come frana attiva. Stiamo parlando di un paese che prima, fino adesso, ha sempre vissuto tranquillamente, grazie ai lavori di autostrade, con la complicità anche della regione, si trova oggi su una frana attiva. Questo ha un danno evidente fin da subito, che è il danno economico per tutte queste famiglie, che ovviamente si trovano delle case assolutamente deprezzate, chi mai andrà a comprare una casa su una frana attiva, nulla si potrà costruire, strutturare, sistemare e il grosso problema è che questa variante, questo tratto è assolutamente sbagliato. Oggi abbiamo la conferma di quello che diciamo da mesi, qui non si doveva fare alcuna galleria, la galleria andava fatta molto più in alto, c'è ancora tempo per cambiare idea, io credo che ci si debba rendere conto, autostrade per prima e la regione in seconda, che questo tragitto va assolutamente cambiato, stiamo distruggendo un paese, delle persone che ci vivono e stiamo distruggendo tutto il nostro territorio. Per cosa? Per un tratto di autostrada che non sappiamo neanche se tra 5 anni sarà ancora valido, perché quello che già oggi è stato scavato si sta spostando, si sta spostando di decine di centimetri, sia l'ingresso sud, sia l'ingresso nord e in discrezioni, notizie di oggi mi dicono che vanno confermate, si stanno addirittura ritirando le assicurazioni, per esempio l'Unipol, si stanno ritirando da questa tutela che avevano garantita autostrade, proprio perché prima del progetto non è stato fatto quello che andava fatto, cioè valutare quello che sarebbero stati gli effetti di questi lavori in superficie, sugli abitanti di questo paese. Ecco, questa naturalmente è una notizia importante che conferma ancora una volta, ovviamente la verificheremo con certezza con le compagnie assicurative, però conferma ancora una volta la situazione di pericolo, di rischio, è un rischio concreto per gli abitanti che vivono in questa zona, in questo paese. C'è un rischio concreto, era stato fatto un protocollo a novembre tra il prefetto, la regione e l'ente autostrade, questo protocollo oggi è già stato disatteso, perché nel protocollo c'era scritto che andavano fatti tutti i monitoraggi delle case prima di far ripartire i lavori, stanotte i lavori sono ripartiti e di monitoraggio se ne è fatti veramente pochi, ci sono delle case in cui si faranno, non so cosa diranno questi tecnici, perché sono state fatte delle perizie senza entrare nelle case, senza vedere realmente in che situazione si trovano a oggi. Questo io credo che sia insostenibile, una regione non si può comportare in questo modo nei confronti dei suoi cittadini, io spero che intervenga velocemente la magistratura che sta lavorando molto bene su questo argomento, ma io chiedo proprio al prefetto con cui mi sono già incontrato personalmente, per cui abbiamo avuto già modo di discutere questa questione, che intervenga lui, perché oggi non è concettualmente possibile dire, che non c'è il pericolo per la pubblica incolumità su una frana attiva, perché qui stiamo creando un precedente che è un po' inquietante. Francesco, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci dato queste notizie, noi abbiamo seguito in questi mesi tutta la vicenda della frana di Ripoli, ovviamente con il suo contributo e con il contributo di chi sta seguendo questa vicenda, continueremo a seguirla e ad affrontarla anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sperando che ci sia una soluzione. Grazie a voi, buonasera. Grazie ancora ad Andrea De Franceschi, cambiamo argomento, parliamo del caso Lombardelli dopo l'interessamento della Procura di Bologna, questa mattina un fascicolo di 53 pagine sulla vicenda è arrivato in questura, come aveva promesso ieri la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Federica Salsi, ha consegnato un insieme di documenti sulla vicenda dell'ex capo di gabinetto del Comune di Bologna, la vicequestora Luigi Corropoli. Il fascicolo spiega la grillina, oltre a contenere documenti vari, ricostruisce gli avvenimenti, poiché sostiene Salsi, sulla vicenda continuano ad accavallarsi contraddizioni e versioni discordanti. Voltiamo pagina, oggi il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, ha visitato il Gozzadini, il reparto della Sant'Ossola dove sono ricoverati i più piccoli e ha incontrato le famiglie dei piccoli pazienti, ha detto tra l'altro, l'arcivescovo di Bologna, la sofferenza dei bambini è quella più vicina alla sofferenza di Cristo. Sentiamo. Preminenza, questa visita molto gradita dai bambini, dalle famiglie, ma anche dai medici, da tutte le persone che lavorano accanto a questi bambini e questa sofferenza che lei ha definito è enigmatica. Io credo che questo sia proprio il mistero più oscuro della creazione, cioè la sofferenza del bambino, perché è quella che è più simile alla sofferenza di Cristo, cioè l'innocente Cristo che ha portato il male di tutto il mondo. E quindi per me lo sento certo un dovere, ma soprattutto come un bisogno, quello di venire periodicamente qui al Gozzadini, di incontrare prima di tutto gli illustri, i professori e i medici, tutto il personale sanitario, i genitori, i genitori soprattutto, il peso dei genitori. E questo è stato una cosa importante, come dicevo, perché solo nella preghiera alla fine uno trova quella luce, quantomeno vero, che intravede, che comunque un disegno c'è, anche in una cosa così enigmatica e così oscura come la sofferenza del bambino. Eminenza, questa piccola cappella intitolata Gesù Bambino, un altro segno molto concreto. Sì, sì, l'ho voluto io, il titolo proprio, il titolo a cui la parrocchia è dedicata, l'ho proprio scelto io, sono stati molto gentili, la direzione, a accettare quello e ho chiesto io stesso dicendo a Gesù Bambino, no? Ecco, perché non dimentichiamo che anche il figlio di Dio è passato attraverso questa età della vita umana, no? L'infanzia e, pur non avendo passato la sofferenza delle malattie, ha passato sofferenze non meno gravi. Ancora piccola ha dovuto scappare. ...di Dedalus Quotidiano, verranno proposte altre immagini e interviste della visita del cardinale Caffara Algozzadini, con interviste tra l'altro al primario, al professor Lima e anche agli altri medici del reparto. Noi ci fermiamo per un attimo e in arrivo la pubblicità, torneremo insieme tra pochissimo, non andate via. Nuovamente insieme con NETG parliamo di incidenti stradali, sono in calo nel 2011 in Emilia-Romagna rispetto all'anno precedente, ma sul fronte della sicurezza e della prevenzione resta ancora molto da fare. Il punto nel servizio di Simone Giannessa. Cala il numero delle vittime degli incidenti stradali nel 2011 in Emilia-Romagna, ma per cantare vittoria c'è ancora tempo. Dalle strade della regione, infatti, continua ad arrivare un vero e proprio bollettino di guerra. 299 sono stati decessi nell'anno che si è appena concluso, mentre nel 2010 erano stati 395. Un passo in avanti, certo un risultato che va migliorando nel tempo, ma che può e deve essere perfettibile. A rilevarlo è il Comitato per la sicurezza stradale di Copparo nel Ferrarese, che svolge una funzione di osservatorio del fenomeno in regione. Su 299 vittime complessive, 89 erano motociclisti, 28 viaggiavano in sella alla loro bicicletta. La maggioranza i giovani, 61 quelli sotto i 30 anni, mentre l'età media si attesta attorno ai 50 anni. 237 gli uomini e 62 le donne. Dunque, il fenomeno degli incidenti stradali coinvolge maggiormente il sesso maschile. Nella sola provincia di Bologna, i morti sulla strada, sono stati 46 e al capoluogo spetta purtroppo il triste primato in classifica. Al secondo posto si piazza Modena, poi Ferrara, mentre Fanalino di Coda e Rimini, con 17 decessi per incidenti nel 2011. Ci fermiamo ancora per qualche istante, torneremo insieme tra pochissimo. Nuovamente insieme con ETG, ma solo per rivedere gli argomenti principali di questa sera. Ancora polemiche dopo la concessione della semilibertà Marino Occhipinti, a ETG il dolore del padre di Carlo Beccari, ucciso 24 anni fa dalla banda della Uno Bianca. Il procuratore Giovannini dice che i giudici applicano le leggi, la politica le può cambiare. Ferma l'addizionale IRPEF, ma ritocco verso l'alto delle aliquote IMU per la prima e seconda case, la prima bozza di bilancio varata dalla Giunta. L'obiettivo è garantire i servizi nonostante i 70 milioni di euro di tagli. Il giorno dopo la protesta dei tassisti in Piazza Maggiore, il Comune approva la decisione di liberalizzare le licenze per l'assessore Nadia Monti, consentirebbe abbattimento dei prezzi e un aiuto anche al turismo. Domani intanto a Bologna, incontro nazionale dei tassisti. Visita privata del Cardinale Caffarra nel pomeriggio al Gozzadini per incontrare le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati. La sofferenza dei bambini, dice l'Arcivescovo di Bologna, è quella che più ricorda la sofferenza di Cristo. Calano le vittime di incidenti ma dalle strade della Regione continua ad arrivare un bollettino di guerra, 299 morti nel 2011, quasi 100 in meno rispetto all'anno precedente, tra le vittime soprattutto motociclisti e giovani. Ed è tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i programmi di ATV. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS